Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato alle attività del Comune di Napoli. L'ospite di oggi è Laura Lieto, Assessore all'Urbanistica. Buongiorno Assessore. Buongiorno. La Fondazione C40 conta 100 città nel mondo e oltre 500 milioni di abitanti e promuove la rigenerazione urbana. Napoli partecipa con un progetto che coinvolge l'intera collina di Pizzo Falcone, da Villa Ebe all'area archeologica. Che tipo di progetto è? Questo è un progetto che candida un'intera area, è un sito che ha delle caratteristiche particolari. e lo fa guardando innanzitutto a obiettivi generali di contenimento degli effetti dei cambiamenti climatici, interventi caratterizzati da tecnologie appunto sostenibili. Ed è un intervento che mira a riqualificare sia appunto un immobile di proprietà del Comune di Napoli, che è la Villa Ebe che si trova in uno stato di abbandono, che è tutta l'area delle rampe fino al sito archeologico che si trova in cima al Monte Echia. Qual è il senso di questa operazione? Innanzitutto è mettere, diciamo, immettere su reti globali la città. Questa è una call che si rivolge appunto a una dimensione internazionale che la Fondazione C40 attraverso il programma Reinventing Cities promuove a livello globale. e dunque il sito viene candidato alla ricerca di appunto candidati, di team, come li chiamano loro, che investono su questi progetti che sono naturalmente guidati, governati dall'amministrazione locale che li promuove. Nel caso specifico noi abbiamo puntato a un progetto di rigenerazione orientato appunto a un'offerta culturale legato ai temi dell'educazione dei giovani che sono dei temi per noi molto significativi nel programma appunto di questa nuova amministrazione ma anche poi tutta la valorizzazione di un sito che è particolarmente importante perché il culmine appunto del Monte Echia dove oggi si trovano i resti della villa di Lucullo è un luogo quintessenziale perché è lì che si trovano appunto i resti della fondazione originaria della città ed è quello anche un'area dove l'amministrazione ha investito nel tempo è una condizione diciamo di quasi ultima azione, un raccordo verticale con l'area di Santa Lucia quindi un ascensore che connetterà la parte bassa sul mare con la parte alta della collina quindi è un'area appunto a cui abbiamo voluto dare un impulso di trasformazione proponendola però e facendola in qualche modo emergere in un contesto di competizione internazionale che aderisce a determinati valori. L'area quindi è un bene pubblico ma sarà dato in concessione a investitori privati ricordiamo che la scadenza per la presentazione delle proposte è il 20 di settembre quali saranno i criteri per scegliere a chi affidare questo bene? Villa Ebe deve diventare appunto un luogo di accoglienza aperto per attività di natura culturale legate prevalentemente alle educazioni, ai saperi e quindi molto rivolto appunto a un pubblico a utilizzatori, ad abitanti diciamo di una certa fascia generazionale adesso cominceremo appunto a precisare e a perfezionare questo tipo di programma e anche le regole di ingaggio e l'idea è quella di farla ripartire quindi di restaurarla, di riqualificarla e di ripensarla all'interno di un'attività che naturalmente diciamo è un investimento di natura privata che deve avere il suo ritorno nel tempo ma compatibilmente con questo su un tempo medio-lungo poi restituire questa attività impiantata, stabilizzata appunto alla città. Ci sono anche altre aree che stanno per ricevere una particolare attenzione come Scampia e San Giovanni a Teduccio. In questo caso si parla di fondi del PNRR pari a 120 milioni di euro. Si tratta di due candidature che noi abbiamo realizzato in seno alla misura piani urbani integrati gestito da città metropolitana a valere su fondi del PNRR. Sono progetti particolarmente significativi prima di tutto perché puntano alla rigenerazione di luoghi e soprattutto di comunità storicamente colpite quindi investite da processi di marginalità molto severa marginalità abitativa ma anche sociale ma anche dal punto di vista diciamo in generale dell'accessibilità ai servizi e alle risorse. Quindi per noi sono interventi diciamo particolarmente significativi di una politica di contrasto alla povertà ma soprattutto nella fattispecie una politica appunto di riqualificazione di contesti particolarmente colpiti da forme di segregazione importante. C'è un'altra novità che è particolarmente importante in questo tipo di misure e cioè che questi progetti che sono dei progetti di trasformazione fisica che prevedono l'abbattimento di in alcuni casi come nel caso delle vele di interi edifici o come nel caso della taverna del ferro di porzioni di una delle due stecche dei lunghi uno dei due lunghi edifici appunto del quartiere con la realizzazione di nuove architetture residenziali e nuovi servizi di prossimità quindi con un meccanismo abbastanza complesso di demolizione ricostruzione e trasferimento naturalmente delle persone. Queste due iniziative hanno anche risorse per attività di partecipazione e di mobilitazione sociale delle comunità che devono accompagnare tutto il processo di trasformazione fisica dei luoghi. E questo ci dice che un modo per riqualificare il territorio è anche quello di rendere partecipi sia gli abitanti sia il terzo settore. Questo è il nostro modo di lavorare. Abbiamo scelto di lavorare così non solo su contesti complessi come questi e all'interno di una misura che questo tipo di attivazione del terzo settore dei soggetti, delle diverse organizzazioni, gli abitanti naturalmente lo consente. Però è uno stile di lavoro che noi ci siamo dati su tutti i progetti che stiamo seguendo come assessorato all'urbanistica e quindi certamente sì, una delle formule principali che noi adottiamo in questo tipo di progetti è quello della coprogettazione e quindi del coinvolgimento attivo innanzitutto degli abitanti. ma anche poi di tutti i soggetti attivi sul territorio nella decisione concordata con appunto le esigenze della vita quotidiana di come devono trasformarsi gli spazi della vita, come devono essere organizzati i servizi e tutto quello che un po' riguarda appunto la vita complessiva di questi quartieri. Assessore, grazie per aver preso parte a questo approfondimento. Noi diamo appuntamento a tutti per i prossimi incontri. Grazie, grazie a tutti.